Il Popolo della Libertà ha già espresso molto chiaramente la sua posizione, ha chiesto che venisse stralciato da quel decreto Balduzzi tutta la parte relativa al comma 1 dell'articolo 2 che avrebbe ristretto di molto le potenzialità dell'applicazione delle cure attraverso le cellule staminali all'interno del percorso delle cure compassionevoli prefigurate dentro la legge turco-fazio che invece noi difendiamo e vogliamo migliorare. Grazie